Quarto United contro Soddisfauto, ultima giornata per la Lega dei Campioni Open Serie A partita che per la classifica conta tanto quanto ma è una gara sicuramente affascinante che può dire qualcosa in più anche in vista della fase finale se non fosse che la formazione bianconera scende di fatto già pensando alla fase finale i verdi passano al minuto numero 22 l'autore del gol Federico Casta da pochi passi Soddisfauto che poco prima aveva colpito il palo proprio con Federico Casta si va a riposo sul seguente parziale Quarto United 0 soddisfauto 1 inizio di secondo tempo con Richard Do che fa tutto bene a centro area di rigore e realizza il raddoppio siamo al minuto numero 34 il Quarto United dovrebbe dire quasi improvvisamente si sveglia Sizzia ha canonato da fuori grandissimo intervento da parte di Cossu la formazione bianconera insiste proprio con Matteo Sizzia il gol al minuto numero 45 ancora Matteo Sizzia al 49esimo numero 10 bianconero scatenato nel finale andrà col mancino a realizzare il gol del 2 a 2 il Quarto United termina la prima fase della Lega dei Campioni Serie A 2023 da impattuto